Ciao cari amiche, eccoci ritrovati, è una nuova puntata sempre dedicata alla creatività. Allora qualche tempo fa, se vi ricordate, questo bellissimo comodino l'ho utilizzato per spiegarvi la preparazione del mobile. Quindi chiedo al regista di far vedere qui sotto la parte dove vi spiegavo. Vi ricordo che tutti i miei video li potete rivedere sul mio canale YouTube Lara Vella Video. Allora cari amiche, dopo aver fatto una buona preparazione della nostra base, possiamo cominciare a colorarlo. Io che cos'è che ho fatto su questo bellissimo comodino? Prima di tutto ricordatevi che dovete sempre rispettare lo stile del vostro comodino. Se avete un comodino in stile povero non lo potete fare diventare un comodino pieno di fregi, cioè per piacere, ok? Se vi piace giocare con i fregi si fanno anche altre così, non si trovano mobili indicati che possono avere i fregi. Questo tipo di comodino, di mobiletto, di recupero, li ha già tanti e quindi utilizziamo quelli che hanno, che ha il nostro mobile. Quindi rispettare lo stile del mobile che noi stiamo decorando, ok? E quindi i fregi non si mettono a prescindere dappertutto. Fatto questo, bello sgrassato, bello pulito, con il pennello velluto completamente asciutto, ben lavato, lo immergo in acqua, strizzo bene che non ci sia colate di acqua, gocce di acqua, proprio lo dovete strizzare bene 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 e ho applicato uno strato di chalk numero 7, il grigio antico, su tutta la base, uno strato sottile, uno strato semplice semplice che mi faccia da base, da primer, faccio asciugare per bene, applico la seconda mano di grigio, come potete vedere è completamente tinta unita, grigio, il mio colore sapete che li trovate soltanto online e soprattutto la cosa importante di questo tipo di pittura, la mia pittura, è autolivellante, quindi non c'è segno del pennello. Fatto questo, come potete vedere, noi adesso lavoriamo sulla parte centrale del cassettino, ok, andiamo a creare l'effetto dry brush su questa parte, il dry brush lo faremo sulla parte del cassettino delle gambe, nella parte qua sotto, qui sotto lo lasceremo tinta unita in grigio e anche la parte superiore la lasciamo tinta unita grigio, ok, e quindi andremo a lavorare su questi profili. Iniziamo subito, a questo punto non si usa più il pennello velluto che è questo, più grigiolino morbidissimo, ok, ma utilizziamo il pennello, quello di setola, con la setola più dura e deve essere completamente asciutto. Questo è un kit che lo trovate i due pennelli insieme. Andiamo a prendere in questo caso la tonalità bianca e guardate un po' come si lavora. Io lo faccio sempre, sempre, sempre vedere perché è importantissimo. Immergo il pennello all'interno del barattolo, in questo modo, vado a ripulire le setole del mio pennello. Allora, prima faccia, seconda faccia, terza, quarta e anche a taglio, ok? Quindi realmente non ho così tanto prodotto sul pennello, ok? Si parte dalla parte esterna. Io lavoro, come potete vedere, bene sul bordo, quindi vado a fare il bordo, è sicuramente la parte più bianca, e poi vado a strisciare tutto il pennello, va fino in fondo, ecco qua, e vado a fare anche la seconda parte. Vedete che il colore sono io a determinare quanto ne deve andare sul mio cassettino. Ecco qui. Allora, adesso mi giro, metto a favore di telecamera, così Mauro può farmi un bellissimo zoom. Ecco qua. Ci siamo Mauro? Perfetto. Io, come potete vedere, vedete che ho già creato un effetto di anticatura? Cioè, il dry brush sembra una tecnica facile. Dici, oh, prendo il pennello e striscio. Eh, no! Non prendi il pennello e strisci. Cioè, devi studiare tutti, tutti i movimenti. Quindi, cari amiche, mi raccomando, quando fate le tecniche del dry brush, dovete sempre andare a lavorare con l'idea di quello che vogliamo ottenere. Quindi le parti del nostro cassettino, queste parti qua, saranno più bianche. Nelle parti centrali andremo a strisciare il pennello in un modo naturale che dia un effetto di anticatura. Ecco qua. Come potete vedere, è perfetto. Cioè, l'anticatura... Noi ricordiamoci sempre che andiamo a creare un effetto di abrasione, di invecchiamento, di parte rovinata naturale, ok? Però il colore deve essere ben attaccato. Cioè, non è che si deve staccare e scrostare. E quindi, anche qua, si lavora quando la parte del grigio sotto, della prima stesura del nostro colore, è completamente asciutta. Adesso ho veramente pochissimo colore sul pennello e vado a ricaricare. Sempre pennello asciutto, riprendo il colore, bagno così. Quindi, ecco, vado sempre a taglio e vado a... Allora, quando si inizia è meglio lavorarci mezz'ora di più su un mobile, ma farlo per bene e quindi andare con poco colore. Partiamo sempre dall'esterno e andiamo a lavorare in questo modo qua. Riprendiamo le parti finali del nostro cassetto e lavoriamo. Logicamente, nelle parti a rilievo, nei fregi già presenti nel nostro cassettino, logicamente le parti più esposte saranno più bianche. Le parti interne, ok, il basso rilievo, sarà logicamente più grigio. Fatto questo, lascio asciugare perfettamente. Nella parte laterale del cassetto lascio il grigio. Fatto questo, adesso andiamo a lavorare sulle gambe del nostro comodino. Quindi, sposto qui, dovete darmi un attimo il tempo di spostare il comodino in modo che le telecamere si riescono a posizionare. Io sto spostando in questo momento la cera neutra, la cera anticante, perché alla fine, volendo, potremmo andare a creare un effetto di anticatura. Allora, giro ancora un attimo il comodino, perché sennò non si riesce a vedere. Quindi, vruppete! Ecco qua, l'inquadratura, se mi viene dato l'ok, lavoriamo su questa parte. Ecco qua, vado a lavorare in questo modo. Sempre vado a scaricare. E, logico che adesso io sto facendo una ripresa, quindi non posso lavorare come normalmente lavorerei durante un corso. Cioè, durante un corso starei davanti, quasi, se sono, se, se, con il mobile, sul cavalletto, da, da, come non si chiamano cavalletti? Come si chiamano quelli, quelli così, il, beh, insomma, avete capito. Sì, cavalletti, cavalletti, si chiamano cavalletti anche quelli, non solo quelli del pittore. Cavalletti, quelli proprio da, in bianchino, da falegname, con sopra il mio mobiletto. Quindi, come potete vedere, la colorazione è molto veloce, però deve essere reale. Questa parte qui, vedete qui dentro, ci devo un pochino insistere, perché non è bello che ci sia un buco, anche la parte qui sotto. Quindi, cioè, non è solo che noi pitturiamo da sopra sotto, cioè, bisogna proprio un po' girarsi e controllare tutto. Allora, quando facciamo i corsi, e molte di voi lo sanno, tutte personalizzano il proprio mobile, e quindi ogni corso, realmente, sono dieci corsi insieme, perché si vede il lavoro di ciascuna ragazza. Adesso giriamo subito la nostra comodina, comodina, perché dobbiamo subito fare la parte interna di questo piedino, in questo modo. E così via dovremmo fare tutte le gambe. Dopo aver fatto tutte le gambe, vedete proprio, io ci vado a finire sotto, ecco qui. Dopo aver fatto tutte le gambe, posso cominciare a lavorare sulle parti centrali e sul bordo qua. Logicamente, per non sporcare, è meglio metterci un pezzettino di nastro adesivo. Se invece non volete mettere il nastro adesivo, poi dovete riprendere tutti i bordi con un pennellino di quelli piccoli angolari per ripulire. Quindi, cari amiche, dopo aver fatto la parte superiore, adesso dovremmo fare la parte inferiore. Molte volte conviene proprio girare il nostro mobile, quindi se è possibile, perché non è che tutti i mobili si possono girare, ok, io devo rigirarlo per metterlo sempre a favore di camera, e fare la parte del piedino qua. Vedete, l'avevo già leggermente iniziato. Quindi un mobile, non è che io lo posiziono sul cavalletto e rimane sempre sul cavalletto, ma devo comunque sempre muoverlo. Fatto tutte le quattro gambe, gambettine, dovremo lavorare con la parte centrale e poi qui. E non è detto che dobbiamo anticare il tutto. Allora, termineremo il nostro comodino con la prossima lezione. Quindi io vi invito a rivedere il video principale dove spiego come si realizza la pulizia del mobile. In questo video abbiamo visto la tecnica del dry brush sulla parte del cassetto, sulla parte della prima gambettina. Io adesso terminerò le altre tre gambe e poi faremo un'altra puntata dove vedremo le parti centrali del nostro comodino e la parte dell'anticatura, perché anche quella è molto molto importante. Le tecniche si ripetono, come sapete, però ogni mobile, ogni decorazione deve essere vista nel suo insieme e soprattutto va rispettato il suo stile. Allora, visto che ho ancora un minutino, vi voglio far vedere questa parte qua, ok? Che è bella dritta, quindi dry brush, pennello, pulitura del pennello in questo modo, ok? Tecnica secco e andiamo a riprendere, vedete, prima si lavora molto bene sulla parte dei bordi, dell'estremità, del pezzettino che devo decorare. ecco, altra cosa, la gambettina l'abbiamo lavorata in verticale, qua stiamo lavorando in orizzontale, cioè non è che devo fare questo in verticale, cioè devono essere studiati tutti i vari pezzettini, ok? Vedete? qui non va bene che il bordo crei una linea, cioè la devo proprio tirare in questo modo. Allora, adesso dobbiamo andare. Allora, giro a favore di camera il comodino. Allora, logicamente, cari amiche, io qui sto lavorando su una scrivania, perché sto facendo delle riprese. normalmente se dovessi lavorare per decorare un mobile, o il mobile è a terra, o è comunque su dei cavalletti e ha un'altezza ben diversa. Però ricordatevi che un mobile non è che si metta fermo e non si muove più, si gira, sì, logicamente, non tutti i mobili si possono girare, tirare, però sì, cioè se noi facciamo un armadio, le ante vanno smontate, ok? Cioè non è che noi decoriamo un mobile tutto così com'è, cioè si smontano, si staccano dei pezzi e alcuni pezzi si proteggono anche con lo scotch di carta. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivedere un attimino la parte del dry brush qua e fare i bordini in questo punto e in questo punto. Abbiamo detto che l'interno qua e la parte superiore le lasciamo grigie antico che è il numero 7. Allora, iniziamo subito da questo. Quindi rivado a prendere il mio pennello, quello di setola più dura per fare la tecnica del dry brush. Immergo, scarico da così a così a così, ok? E adesso posso usare il mio pennello. Allora, partiamo da qua. Io ho rimesso il cassettino interno perché la sfumatura, comunque l'effetto del dry brush cioè deve accompagnarsi. vado a sporcare il bordo quello che rientra e comincio a lavorare così. Se qua è tanto bianco anche lì deve essere tanto bianco, eh? Quando comincia un po' a calare anche qua comincerà a calare. Questa parte è sotto quindi posso lavorarla senza grossi problemi. la parte qua io adesso non la vedo vi assicuro che non la vedo perché sono da questa parte del tavolo cioè dovrei girarmi e guardarla bene però posso andare quasi sicura e guardate questo movimento che vi ho fatto vedere anche nell'altra puntata. Io sto schiacciando e facendo vibrare il pennello in un angolino cieco, ok? Quindi attenzione agli angolini ciechi. Mi raccomando rispettare rispettare sempre lo stile del nostro mobile cioè questo è un mobile veramente bellissimo un comodino per me meraviglioso con tutti questi bellissimi fregi è bello lavorarlo così ma se io ho un comodino in arte povera non stiamo metterceli fregi cioè non è che il fregio a prescindere lo devi mettere dappertutto eh? Non è detto che ci sta bene cioè quindi rispettare lo stile del nostro del nostro mobile andiamo dopo la fantasia uno può fare quello che vuole però insomma ci sono un po' anche di regole da rispettare punto cieco quindi vibro il mio fennello anche qua ecco qua e il punto cieco è stato fatto se voglio vado subito a riprendere la parte sotto questa parte qui sotto del nostro mobile ed è bello fatto ogni pezzo deve essere terminato cioè non è che io salto da qui a su a giù no sto facendo questa parte quindi subito i punti ciechi la parte davanti la parte sotto la parte qui sotto che ho fatto prima quando ho fatto le gambe ogni pezzo deve essere curato quindi se io sto lavorando su questa parte mi raccomando di fare il cassettino che l'abbiamo fatto all'inizio la parte sotto riprendere il bordo qui tutti i pezzi devono essere finiti quando io finisco un mobile non devo andare a ricontrollare tutte le parti che mi sono dimenticate mi raccomando adesso fatto questo andiamo a rivedere a fare i bordini qui allora ci sono due possibilità se io sono brava vado a proteggere tutta la parte che non voglio colorare vedete che qui ho sporcato in questo punto qui ho sporcato di bianco qui dovrò grattare e dovrò andare a riprendere il tutto il nostro scotch di carta ci aiuta se ho una parte dritta non c'è nessun problema lo stendo dritto se però non ho una parte dritta devo farci dei piccoli taglietti in questo modo e fare in modo che il nostro nastro adesivo vada a compensare la rotondità quindi faccio come delle piccole aderenze ok proprio come in sartoria cioè faccio delle pens quindi lavoro così strappo rimetto dentro ok in questo modo strappo lì rimetto modo strappo e rimetto modo ok questo qua mi serve per proteggere sicuramente la mia base se io non faccio questo non c'è nessun problema lo posso poi andare a riprendere con un pennellino ok di quelli a sbieco quelli che utilizziamo per la pittura country quindi andiamo a strappare andiamo a rimettere così andiamo a fare questa parte qui strappo ecco qui e andiamo a fare questo pezzo adesso io qua lascio andare lo scotch su non mi interessa prendo un pennellino adeguato sottile e lo vado a caricare come ho fatto per le gambe quindi vado proprio a lavorare in questo modo e andiamo a lavorare così la parte si ripete si ripete sempre nella parte vicino al punto cieco al punto di unione con un'altra parte del mobile deve essere più bianco ben tirato e poi vado a scaricare il colore ricordiamoci che all'interno del mio prodotto c'è già della cera e il primer quindi aderisce su tutte le superfici vado a rifare tutto il bordo ecco qua quindi il bordino è fatto così in dry brush il dry brush è bello farlo sulle parti delineate sulle parti piccole adesso giro il mobile abbiamo detto che questa parte qua comunque la devo riprendere perché l'ho sporcata prima quindi senza nessun tipo di problemi vado a lavorare senza lo scotch perché comunque la devo riprendere ricarico qui ricarico qua allo stesso tempo sfumo queste parti qua perché inevitabilmente un pochino di colore ci sarà andato e vado a lavorare così ecco qui in questo in questo modo perfetto e dappertutto devo lavorare allora questa parte qui guardate se vado a taglio col pennello che vado a riprendere proprio con la parte bianca perché la parte qua del bordino deve essere comunque più bianca cioè quindi io ho usato proprio quasi l'ho grattato sulla ghiera del pennello tutte queste cose durante un corso in presenza che stanno ricominciando si possono fare allora come sapete potete sempre richiedere al mio numero di telefono i corsi in presenza e anche partecipare ai corsi in tour sul territorio italiano quindi scrivetemi sempre per avere tutte le informazioni rigiro il mio mobile allora come potete vedere è già stata fatta anche tutta la parte del dietro perché comunque un mobile non è che perché è attaccato al muro non si decora cioè si deve fare tutto poi qui volendo uno ci può anche fare dello stencil ci può anche giocare questo qua poi uno io cerco di insegnare sempre a fare tutti i pezzi perché ogni pezzo ci può insegnare un qualcosa velocemente vado a rifare anche questo quindi vado a scaricare bene 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 il pennello faccio i bordi e dico sempre rubate con gli occhi ok adesso andiamo a fare le parti superiori che sono queste quindi anche qua vado a con il sempre la tecnica del dry brush fare il bordo qua mi si aiuta un po' di più perché c'è comunque un salterello cioè nella parte superiore però le parti sopra e questo abbiamo detto che saranno grigie quindi le andremo a riprendere allora siccome ci manca ormai pochissimo tempo sapete che dovete rifare questa tecnica su tutta la parte andiamo a vedere la parte dell'anticatura e vedremo solamente un pezzettino della gambettina quindi se io voglio andare ad anticare tutto il mio mobile prendo cera neutra e cera anticante sapete che c'è la confezione grande e la confezione piccola prendiamo il guanti possiamo utilizzare se desideriamo un pennello o degli straccettini umidificati come desiderate voi o degli straccettini di cotone allora io vedo che delle volte mi dicono ma questo qua è un pennello che costa pochi centesimi ok perché per la cera se ne usano tanti quindi comprate della roba veramente da pochissimo andiamo a mettere tutta la cera o con lo straccio o con il pennello io adesso faccio solamente questa gambettina perché è sono sicura che è bella asciutta andiamo a mettere la cera neutra su tutta la nostra superficie anche perché ci fa da protezione la cera neutra ci va a proteggere la nostra gambettina logicamente non possiamo fare solo la parte davanti ma la dobbiamo applicare su tutta la superficie quindi anche qui mettiamo la nostra cera neutra dappertutto ecco qua questo che io voglia fare la la decorazione la l'anticatura oppure no per quanto riguarda l'anticatura possiamo prendere sempre un un pennello o uno straccettino di cotone come voi desiderate allora diciamo che se ci sono fregi è sempre meglio mettere un un pennellino e andiamo ad anticare vedete come sta cambiando la nostra base vedete che la cera anticante va a scivolare sopra la cera neutra ancora bagnata e non mi fa quel macchione di chi insegna a lavorare sulla cera con la cera anticante direttamente sul mobile ok quindi andiamo semplicemente a lavorare così l'anticatura deve essere un'operazione veloce parti più chiare parti più scure a nostro gusto ok perfetto in questo modo e poi con uno straccio di cotone andiamo a togliere l'eccedenza di prodotto cari amiche il nostro tempo ormai è veramente concluso abbiamo visto in queste tre lezioni come decorare il mobile sapete che potete sempre contattarmi al mio numero whatsapp che vedete qui sotto per avere tutte le informazioni sapete che potete rivedere tutte le puntate sul mio canale youtube laravella video seguirmi sui social scoprire le storie su instagram e spero che vi sia piaciuto alla prossima puntata ciao ciao ciao